buonasera a tutti sono luigio naracu se piacete bentornati su draw on the docan battle versione jump con il pull or not nel nuovo dual fest di boo beyond good and evil e gotenks evo allora docan fest che reputo leggermente superiore a quello che abbiamo avuto a fine anno di magete goku però ancora non ai livelli dei docan fest del 2019 c'è questo 2020 si sta mostrando per un anno in cui docan fest lr ok quelli tour così così iniziamo a vedere un attimo i due banner partendo a quello di boo andiamo a vedere un attimo se e dove consiglio di pullare entrambi i banner sono strutturati con 7 pg docan festival non lr quello di boo presenta broly super saiyan 3 tech che ad oggi probabilmente uno se non il peggior tour attualmente disponibile nel gioco purtroppo ha troppi difetti e difficilmente è utile nelle modalità poi abbiamo shit boo shit boo ragazzi più va avanti più fa schifo l'insulto alla sua esistenza rimane e poi abbiamo 5 pg di media utilità abbiamo metal cure raggelle pg la cui utilità va via via scemando ma rimane comunque giocabile si non è il pg della vita non è il pg che seppulli gridi al miracolo benché il suo team non è malvagio però può servire broly pg che rimane must have in moltissime modalità davvero buono che sia in un extreme battle road o soprattutto nel torneo dove il leader del team migliore in cui si può giocare poi abbiamo zamasu agl pg gne c'è di meglio c'è molto di meglio rimane un leader extreme quantomeno giocabile rider ream giocabile però si non griderete mai al miracolo con lui anzi probabilmente griderete al contrario del miracolo abbiamo poi finalmente al suo ritorno e finalmente l'ho trovato direi dato che sinceramente lo cercavo il caro vegeta evolution mageta evo pg tutto sommato carino tutto sommato carino seppur non eccezionale non penso che verrà rifatta la sua analisi perché rimango del parere che ho dato alla sua uscita però dai a quantomeno è un pg affrontabile è un pg simpatico ad usare finalmente l'ho trovato quindi me ne tolgo le mani non dovrò più cercarlo infine abbiamo il nuovo majinbu tokam festival che qua abbiamo nella forma normale mentre a tour e con la sua versione malvagia ragazzi majinbu come vedremo nell'analisi nei prossimi giorni e come anche per gotex è un pg saltabile non grida al miracolo non è un grandissimo pg non è un pg scarso è semplicemente un pg non è eccezionale non è schifoso nella media hanno fatto un grave errore con lui hanno fatto un grave errore con lui che andremo ad analizzare può servire nella road extreme tech però non è niente di che personalmente repto questa batch delle due globalmente quella un pochino più sensata io preferisco bua gothens preferisco pesantemente bua gothens però non è una base su cui farei molto io ci ho fatto un giro ho trovato vegeta buona per me per me buona non toccherò ancora la batch della batch mi manca soltanto bu e non è un pg cioè se avessi trovato sei stato felice ma non è qualcosa che andrò a cercare dual da monogiro trovate qualcosa bene non trovate nulla potete saltarlo nel caso però non aveste né bu né majin vegeta né broli potete pensare al secondo giro non vi so dire se faremo però un top grossing perché non mi ispirano eccessivamente come batch abbiamo poi la batch di gothens allora io la reputo più scarsa tra virgolette anche se siamo lì al posto di broli super saian 3 abbiamo gothens tech che risulta superiore naturalmente al pg dato che ha già ottenuto l'esa gothens tech è un buon pg gioca da dio con il nuovo gothens quindi ci può stare al posto di shitbu abbiamo gothens fisico che stranamente risulta meglio comunque di shitbu però si è un pg ormai vecchio soprattutto se avete il tech fino al suesa non lo giocherete mai oddio mai io l'ho giocato nella road extreme nell'extreme battle road fisica qualcosa mi ha fatto ma non è un pg che andrete a giocare abbiamo poi gothens gl ottimo pg se non lo avete questa batch potrebbe darvi un aiuto quindi se non lo avete provate a prendere comunque davvero buono trunk stack seppur stia perdendo di utilità con l'uscita delle ultime categorie dei nuovi pg rimane uno dei migliori del gioco però si tu come tu ti stai invecchiando piccolo unico pg che mi manca della batch dato che ho trovato sia goku che gothens ma non ci continuerò a pullare per lui è un pg carino l'ho sempre voluto avere però si vive anche senza goku super saian 2 preso quei coin dato che ne è arrivato a 2000 coin mi sono detto prendiamoci così mi manca un pg da ognuna delle due batch carino però ai soliti prendere l'essere int ha bisogno di ability funziona il giusto funziona il giusto nella form super saian 3 può servire magari lo andremo a provare in un nuovo super int dato che anche il caro gothens nuovo è int gothens sotto alcuni aspetti è peggio di bu sotto altri aspetti è meglio di bu sarà interessante analizzare al meglio il pg insieme a voi l'ho trovato nell'unico giro che ho fatto nella free quindi comunque lo potremo vedere potremo provarlo anche sul campo non mi fa impazzire sinceramente non mi fa impazzire reputo che sia uno di quei pg che ha bisogno dell'ability 1 per funzionare al meglio però dai vedremo un attimino vedremo un attimino ma la categoria è una cosa che probabilmente più mi fa piangere del pg però vedremo un attimo vedremo un attimo affrontando al meglio tutto quanto questa batch la reputo leggermente inferiore escluso gogetta gl che di sicuro è il pg probabilmente migliore della batch stessa gli altri pg come utilità effettiva in questo momento sono leggermente più bassi tranne magari gogetta e trunks oddio gogetta è più utile di metal cooler trunks però non per forza è più utile di broli quindi comunque batch che reputo leggermente inferiore anche qua un giro non esagerate abbiamo i kk vicini con doppi lr tra un paio di mesi massimo non reputo questa una batch su cui spendere più di un giro anche qua ci sono i ma se non avete gothens goku trunks e gogetta allora potete investire un po' non vi fate un team con questa batch non vi fate un team però può uscire qualcosa di carino detto questo ditemi a voi com'è andata se avete pulato qualcosa noi ci vediamo da domani con le analisi adesso vedo se riesco magari già a portarmi a tour gothens parto con lui altrimenti parto con bu che tanto non pulandoci più so che non lo trovo quindi posso tranquillamente partire anche con lui noi ci vediamo al prossimo video se riesco stasera uscirà anche un video di preparazione a king super boss altrimenti domani e preparatevi perché settimana prossima dovrebbe partire la serie su final fantasy 7 remake dato che mi hanno detto oggi che me l'hanno finalmente inviato dopo una settimana e mezzo di ritardo ma particolare buona serata e alla prossima buona serata e allora